Musica Primo tavolo di concertazione del 2023 tra i sindacati e la regione stabilito un percorso per affrontare le grandi emergenze della nostra terra priorità stabilizzare i precari Sempre più critica la situazione dei lavoratori Alival al Reggio si apre un anno di grande incertezza per le mestranze Il fronte dei primi cittadini contro l'autonomia differenziata troppe le disparità tra le regioni del nord e quelle del sud non solo sul fronte sanitario chiesto l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 9 persone tra i 21 e i 67 anni denunciate dai carabinieri nel Catanzarese avrebbero intascato il reddito di cittadinanza senza avere i requisiti necessari Si è lavorato per tutta la notte Gioia Tauro per disincagliare la nave porta container rimasta bloccata ieri mattina in uscita dal porto calabrese Paisaggi innevati in Sira La coltre bianca attesa all'olica e camigliatello le nevicate sopra i mille metri di quota restano le criticità per gli impianti di risalita Buonasera dalla redazione del TG10 Dunque priorità la stabilizzazione dei precari è quanto emerso nel corso dell'incontro il primo a Catanzaro tra la triplice CGL Cisleguil e la Regione avviato un percorso per dare risposte ai problemi della Calabria Eccola la foto dell'incontro il primo del 2023 tra sindacati e Regione Calabria in città della Catanzaro CGL Cisleguil i segretari regionali Angelo Spusato Tonino Russo e Santo Biondo attorno al tavolo della concertazione con il presidente Roberto Chiuto e il neoassessore al lavoro e formazione professionale Giovanni Calabrese priorità il precariato ben 8.000 ai lavoratori che aspettano la stabilizzazione negli enti locali calabresi C'è tanto precariato storico all'interno della nostra Regione quindi si è voluto stabilire il metodo di lavoro con la convocazione nelle prossime settimane di un tavolo tecnico operativo per affrontare le varie questioni che guardano le leggi regionali di questi anni che hanno visto precarizzare il lavoro nella pubblica amministrazione calabrese e che invece puntiamo alla stabilizzazione di questi lavoratrici e di questi lavoratori Avviato un percorso sulle grandi emergenze ma anche sulla prospettiva di sviluppo possibile sottolinea la triplice grazie ai programmi e alle risorse destinate alla Calabria Bisogna mettere in campo quattro momenti di confronto strutturato, tematici su alcuni settori il primo è il precariato il secondo è la verifica sul programma GOL sulle politiche attive del lavoro che è anche una missione come dicevo del piano nazionale di ripresa e resilienza poi c'è il tema della ZES noi pensiamo che all'interno del contenitore ZES debba essere sottoscritto un protocollo di relazioni industriali e sindacali per far sì che tutti coloro che verranno a insediarsi all'interno delle ZES rispettino quelli che sono per noi gli standard che garantiscono la qualità del lavoro ovvero il rispetto dei contratti collettivi il rispetto della sicurezza nei luoghi di lavoro e quindi dobbiamo costruire un protocollo che sia come dire un elemento vincolante per quelle imprese che vorranno investire o che si trovano già all'interno della ZES e poi c'è anche la volontà di mettere in campo insieme alle parti datoriali un tavolo interdipartimentale che possa far venire fuori da questi momenti e di confronto delle relazioni industriali maturi che possano sviluppare nel tempo anche una contrattazione di secondo livello che sia funzionale a far crescere le imprese e a far crescere la qualità del lavoro Intanto è sempre più critica la situazione dei lavoratori Alival di Reggio Calabria Chissà se qualcuno aveva pensato a una fine così nel 2019 quando cioè la holding casearia Lactalis dopo Galbani e Parmalat la storia del latte dei formaggi in Italia aveva acquisito pure Nuova Castelli cioè anche Alival ossia pure lo stabilimento reggino di San Gregorio che però da fine marzo chiuderà i battenti sarà detto e poi scritto con tanto di piano sociale a indicare le vie percorribili per i 79 lavoratori uscita agevolata accompagnamento agli ammortizzatori sociali o trasferimento in diversi stabilimenti del comparto caseario del centro nord sempre nell'orbita Lactalis con incentivi per viagge trasloco nessuno poteva sapere che parte datoriale avrebbe poi giocato con tre mesi d'anticipo i lavoratori continueranno a essere pagati fino a tutto marzo come previsto ma cogliendo l'occasione del ponte dell'Epifania da giovedì 5 gennaio lo stabilimento all'estrema periferia sud di Reggio non ha più riaperto nei giorni utili precedenti si era comunque registrata una brusca flessione delle attività e soprattutto lo stop totale all'approvvigionamento di materie prime epilogo ancora più amaro per almeno quattro ragioni intanto vari addetti che avevano chiesto il trasferimento ci hanno ripensato dunque a parte i tre licenziamenti volontari e una decina di trasferimenti dal primo aprile la gran parte dei 79 lavoratori specializzati rimarrà senza lavoro per loro come aiuto di matrice sociale la triplice sindacale chiede un significativo indennizzo seconda questione il vano sondaggio di alcuni grandi player dell'agroalimentare per la possibile acquisizione di ramo d'impresa all'unica riunione del tavolo tecno-istituzionale neppure le due aziende di Guardavalle e Curinga nel Catanzarese e Parsa Interessate avevano poi mosso passi concreti la terza la politica pare ammutolita all'apparenza poco interessata a farsi coinvolgere da una sorta ad effetto Titanic infine al netto della chiusura del sito resta l'enigma del depuratore interno senza vendita dello stabilimento potrebbe restare lì inutilizzato e trasformarsi in un'insidiosa bomba ecologica dalla Calabria arriva ancora una volta un secco no all'autonomia differenziata da parte dei sindaci le rassicurazioni di Calderoli nel corso della sua visita in Calabria non sono state sufficienti e i sindaci non ci stanno l'autonomia differenziata non piace preoccupa queste latitudini soprattutto quando si parla di spesa storica c'è un divario enorme tra il mezzogiorno e la regione del nord del paese poi a me piace dire che c'è un divario molto molto più profondo tra la Calabria e le altre regioni del nord d'Italia che i livelli essenziali di prestazione non sono assicurate per niente in tutti i settori e quindi noi non possiamo essere d'accordo quando le regioni del sud e la Calabria nello specifico raggiungeranno il livello di quelle del nord allora si potrà parlare di autonomia differenziata ed il riferimento è alla difficoltà che si vivono in tutti i comparti non solo a quello classico della sanità a Sibar per avere il freccio argento la regione deve pagare oltre un milione all'anno il nord del paese sono tante frecce sono tutte rosse se pensiamo alla 106 insomma un cittadino che deve andare da Rocca Imperiale a Reggio Calabria ci impiega una giornata in un'altra area del paese questo che è più negativo non c'è quindi noi vogliamo essere livellati al resto del paese senza creare contrapposizioni dopo di che si può anche pensare all'autonomia differenziata i sindaci circa 200 hanno scritto anche al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per fermare l'autonomia a breve anche l'Anci farà sentire la sua voce ma si chiede l'intervento di tutte le istituzioni calabresi e anche l'Anci nelle prossime ore nei prossimi giorni l'Anci regionale assumerà posizione in merito e dirà la sua che insomma succintamente posso dire indipendente anche il pensiero dei colleghi sindaci dell'Anci che c'è assolutamente un giudizio negativo su questa proposta che il Ministro Calderone sta portando avanti e noi speriamo che anche le forze politiche che convongono la squadra di governo io spero che i parlamentari calabresi si facciano sentire e dicano tutti insieme al di là delle differenziazioni politiche il Consiglio regionale ufficializza le dimissioni dei neoparlamentari a Ruzzolo e Loizzo al loro posto entrano Giannetta e Molinaro breve seduta pomeridiana del Consiglio regionale il senso politico sta nell'avvicendamento degli ormai ex capigruppo di Forza Italia e Lega Gianni Arruzzolo e Simona Loizzo ora entrambi alla Camera coi primi dei non eletti due ritorni di lusso l'ex sindaco di Opido Mamertina Mimmo Giannetta già a capo della vigilanza e l'ex presidente calabrese di Coldiretti Pietro Molinaro prima alla guida della Sesta Commissione Agricoltura diluvio dell'OGB Partisan specie per il Rosarnese a Ruzzolo tra le spicolature per la Loizzo arriva un'ampia attestazione dal successore a capogruppo Giuseppe Gelardi che peraltro insieme a Pietro Raso e allo stesso presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso solo pochi giorni fa la destituì da capogruppo come a sanzionarla per aver sfilato la firma dalla legge regionale sulle sale gioco effetti pratici del doppio cambio Michele Comito il nuovo capogruppo di Forza Italia girata la presidenta della terza Commissione Consigliare Sanità alla collega azzurra Pasqualina Straface archiviati gli avvicinamenti restavano all'esame dell'Aula Fortunio solo tre modifiche di legge passate in scioltezza la prima ha investito la riforma del turismo per la prima volta in Calabria ha scandito l'Udicino Pino Graziano con la modifica la legge 8 del 2008 si introduce nelle aziende di settore la figura del direttore tecnico d'agenzia di viaggio e turismo questo per garantirne la capacità di promuovere il territorio circoscrivendo meglio criteri di rilascio dell'abilitazione e regole per svolgerne l'attività quanto alla legge 30 di quest'anno sul vincolo idrogeologico relatore e presidente della quarta commissione ambiente la variazione intende semplificare l'iter autorizzativo in materia per interventi in aree agricole non boscate che comportino movimenti terra inferiori ai 500 metri cubi strano balletto ha osservato la minoranza solo pochi mesi fa il tetto era stato ribassato a quota 250 a chiudere le modifiche alla legge 36 del 2008 sull'edilizia sociale relatore il totiano Francesco Denisi per blindare l'ultimazione dei lavori finanziati il termine di fine intervento slitta da fine 2021 a fine 2025 quello per rimodulare da proprietà allocazione o delocalizzare gli interventi da fine 2021 a fine 2023 e domani alla cittadella regionale il voto dei sindaci per i 22 membri elettivi del Cal evocato in aula dal presidente Mancuso che per spiegarne la rilevanza ha citato da esortazione del capo dello Stato Sergio Mattarella all'assemblea del lanci di Bergamo a mettere i comuni in condizione da adempiere i compiti loro affidati per concretare la pari dignità di tutti i cittadini la cronaca adesso nove furbetti del reddito di cittadinanza sono stati beccati dai carabinieri nel Catanzarese altri furbetti del reddito di cittadinanza individuati in Calabria questa volta ad Albi in provincia di Catanzaro dove i carabinieri hanno denunciato nove persone di età compresa tra i 21 e 67 anni una delle quali è risultata anche destinataria di una pensione minima di vecchiaia non dichiarata l'indagine dei militari della stazione di Taverna svolta nell'ultimo trimestre del 2022 ha permesso di accertare che i furbetti pur non avendo i requisiti o non mantenendoli nel tempo avevano richiesto e ottenuto il sussidio erogato dall'Inps nel corso dei controlli i militari hanno rilevato diverse anomalie e nelle dichiarazioni rese per ottenere l'emolumento in particolare sono state individuate false attestazioni relative alle residenze rivelate se fittizie e l'omessa indicazione di altri redditi disponibili il danno complessivo ai danni dell'Inps è stato quantificato in 30.000 euro nel 2022 il comando provinciale dei carabinieri di Catanzaro ha denunciato complessivamente 64 persone per indebita percezione del reddito di cittadinanza 9 persone sono state arrestate nel Mantovano per irregolarità nell'assegnazione dei fondi regionali per la ristrutturazione di immobili danneggiati dal terremoto del 2012 sullo sfondo la presenza dell'Andrangheta è stata chiamata operazione sisma e da buon terremoto ha colpito le fondamenta di un sistema del quale secondo gli inquirenti avrebbero fatto parte architetti ingegneri imprenditori e personale di banche si chiama così però perché si parla delle procedure per la concessione di fondi sisma per la ricostruzione di immobili danneggiate al terremoto del 2012 in provincia di Mantova a coordinare le indagini la DDA di Brescia perché l'accusa parla di concussione corruzione e intestazione fittizia di società con l'aggravante delle finalità mafiose per aver agevolato la cosca andranghetistica Dragone di Cutro in tutto sono 10 le persone indagate 9 invece le ordinanze di custodia cautelare eseguite di cui 4 in carcere e 5 agli arresti domiciliari tutto gira attorno alla figura cardine del nipote di uno storico boss cutrese pubblico ufficiale con la carica di tecnico istruttore in diversi comuni del Mantovano a lui spettava il compito di gestire i contributi a fondo perduto stanziata alla regione Lombardia per gli immobili danneggiate dal terremoto del 2012 e non ne faceva certo mistero secondo gli inquirenti il meccanismo era collaudato il 3% della somma per garantirsi la trattazione della propria pratica senza tener conto dell'ordine cronologico e l'aumento dell'importo del contributo pubblico a fondo perduto in un caso da 595 mila euro si è passati a 950 mila ne prendi 60-70 grazie a un mio giro sei contento no? tutti contenti quindi c'era però un'altra condizione secondo gli inquirenti ovvero l'affidamento dei lavori di ricostruzione a della società facenti capo al tecnico istruttore e al padre chiaramente attraverso dei prestanome a Gioietaura adesso dove si è lavorato tutta la notte per disincagliare la nave rimasta bloccata ieri mattina in uscita dal porto calabrese hanno lavorato tutta la notte i 5 rimorchiatori nel porto di Gioia Tauro per disincagliare la nave porta container MSC Elaine battente bandiera Panamense ieri mattina in uscita dalla banchina del porto calabrese è rimasta insabbiata ecco le immagini pubblicate da local team che mostrano le operazioni di rimorchio viste da un drone le navi hanno lavorato per ore per rimuovere l'imponente battello anche con condizioni meteo avverse visto che non è stato semplice liberare l'imponente porta container lungo 346 metri a causa del forte vento di ponente con punte prossime ai 52 nodi di velocità che è imperversato sul porto sin dalle prime luci dell'alba e ha reso necessario un approccio più lento nelle procedure di manovra la nave prima di riprendere la navigazione verso Malta è stata traccata per accertamenti nella banchina est del porto Gioiese dopo essere stata sottoposta ad attenti controlli dell'opera viva della fiancata di Babordo prima di riprendere il mare saranno gli accertamenti effettuati e i rilievi a stabilire cosa è realmente accaduto e perché la nave porta container nelle manovre in uscita dallo scalo si sarebbe incagliata sulla mantellata flangi frutti posta a protezione dell'infrastruttura di Gioia Tauro la rete idrica colabrodo della Calabria censire la dispersione dell'acqua nella nostra regione l'istat che rivela un enorme spreco della preziosa risorsa la Calabria fa acqua da tutte le parti si potrebbe dire così leggendo l'ultimo report dell'istat sulle acque per uso civile i risultati del censimento che prende in esame i dati del 2020 fotografano una situazione calabrese come una delle peggiori del paese ogni cittadino della nostra regione ha a disposizione poco più della metà dei litri d'acqua di cui dovrebbe beneficiare 277 invece che 504 nel 2020 dei 346.347 metri cubi di acqua che sono stati immessi nella rete ne sono arrivati a destinazione cioè rubinetti dei calabresi soltanto 190.324 la differenza la fa la rete colabrodo che disperde il 45,1% delle risorse idriche contro una media nazionale del 42,2% la nostra regione è messa meglio soltanto della Basilicata e dell'Abruzzo la provincia con una maggiore disponibilità di acqua è quella di Vibo Valencia che pur contando su una quota pro capite inferiore grazie alle minori perdite raggiunge 300 litri di erogazione per ogni abitante ma se si guarda la sola città capoluogo è qui che si concentra la maggiore percentuale di perdite con più della metà del prezioso liquido che va dispersa i problemi maggiori sono nel Crotonese area che somma la carenza di risorse idriche perdite pari del 61,6% seguono Catanzaro 47,3% Reggio Calabria 45,9% e Cosenza 41,1% la città più virtuosa è proprio Cosenza con perdite che si attestano ora al 31,1% Crotone Reggio Calabria e Catanzaro disperdono tra il 46 e il 48% dell'acqua disponibile Il cortocircuito della povertà aumenta il bisogno rallenta il banco alimentare il direttore Gianni Romeo ai nostri microfoni ammette le difficoltà ma rassicura a febbraio si tornerà alla normalità Il cortocircuito della povertà con gli aiuti i pacchi alimentari che in questo mese di gennaio arrancano la conseguenza è che le famiglie bisognose in Calabria restano indietro le parrocchie si organizzano con le gare di solidarietà per garantire almeno il necessario da portare in tavola a chi non mette insieme il pranzo con la cena ma che cosa sta succedendo c'è un rallentamento lo conferma ai nostri microfoni il direttore del banco alimentare della Calabria Le richieste sono in aumento e che i prodotti insomma invece sono in diminuzione parliamo dei prodotti soprattutto che vengono dal programma del FEAD e del FEAD quindi sia dovuti a un problema di approvazione del piano del piano nazionale contrasto della povertà ma soprattutto diciamo dovuta proprio a questioni pratiche concrete ossia il rincaro dei carburanti il rincaro dell'energia elettrica le materie prime cioè tutti questi elementi hanno aggravato un po' la situazione va ricordato che sono 128 mila i calabresi che grazie al banco alimentare riescono ad avere un pasto caldo e lo stesso Gianni Romeo a spiegare che si tratta di una difficoltà temporanea noi siamo comunque ottimisti nel senso che ci sarà forse meno abbondanza però insomma i nostri programmi continueranno ad andare avanti infatti adesso ci stiamo organizzando per esempio in questo mese che da questo punto di vista siamo più rallentati a ritirare più frutta frutta e ortofrutta a febbraio il servizio dovrebbe normalizzarsi il banco precisa inoltre di poter contare anche sulla sinergia con la regione Calabria adesso già ci stiamo lavorando con la regione per riprendere la manifestazione di interesse commercianti e residenti chiedono un posto fisso di polizia all'autostazione di Cosenza negli ultimi mesi sono stati intensificati i controlli ma si insiste su una presenza costante delle forze dell'ordine in un luogo sensibile della città benvengano le forze dell'ordine la loro presenza dovrebbe allontanare le ipotesi di furti scippi e altre forme di violenza gratuita che spesso riceviamo tutti d'accordo commercianti di piazza autolinea Cosenza il posto fisso di polizia sarebbe la soluzione ideale per rendere più sicura l'area e dare tranquillità sia a chi lavora che ai residenti e ai viaggiatori sarebbe un'ottima scelta da operare perché la sicurezza in questo momento in questo quartiere è messa a dura prova da parte dei residenti ma anche dei commercianti i quali a volte sono sottoposti a vere e proprie vessazioni specialmente negli orari del pomeriggio inoltrato sono a favore sarebbe una cosa utile almeno in questa zona mi sarebbe comodo avere la polizia sempre a portata di mano mi piacerebbe sarei favorevole sì sì fenomeni di violenza spaccio scippi un luogo che appena si molla la presa torna ad essere terra di nessuno gli esercenti all'unisono hanno accolto con favore l'incremento dei controlli da parte delle forze di polizia che stanno monitorando la zona ma ritengono che una postazione stabile otterrebbe risultati più concreti e prolungati nel tempo certamente a favore per i residenti è ovvio che è scontata la risposta sono a favore perché magari essendoci fisso qua un presidio è meglio evitando di fare tutti quei posti di blocco perché non ci permette neanche di lavorare perché molta gente una volta che trova i posti di blocco e poi qua non vengono non si riescono a fermare con le macchine invece stando fisso c'è più controllo secondo me sono a favore non posti di blocco che non servono a niente un presidio fisso un famoso poliziotto di quartiere diciamo noi questo chiediamo e adesso vediamo i primi fiocchi di neve in sila tanto tuonò che piove diceva un vecchio adagio che può essere adattato alla neve in sila arrivata dopo settimane di attesa la perturbazione di queste ore ha portato la dama bianca anche sulle vette calabresi con buona pace di tour operator e albergatori oltre che gli addetti delle piste da sci che stanno lavorando alla cremente per farsi trovare pronti all'arrivo di turisti e amanti dello sci guardate le riprese fatte direttamente dalla cabinovia ci mostrano scenari in mozzafiato ecco ad esempio il bobinazione all'orica poche ancora le presenze destinate ad aumentare se la situazione dovesse rimanere così nel prossimo weekend a Camigliatello scuole aperte nonostante la coltre bianca guardate da una webcam è stato ripreso il bus che accompagna quotidianamente i bimbi negli istituti scolastici della città vi lascio adesso alla borsa grazie come sempre per l'attenzione e buon proseguimento di serata chiusura debole per le borse europee mentre prosegue poco mosso alla seduta di Wall Street così il Fuzi Mib e il Dax di Francoforte hanno archiviato le contrattazioni con un meno 0,1% il ribasso anche il CAC 40 di Parigi meno 0,6% il Fuzi 100 di Londra meno 0,4% mentre ha chiuso sopra la parità l'Ibex 35 di Madrid più 0,3% Powell ha riaffermato la necessità di misure impopolari per contrastare l'inflazione sottolineando l'importanza di una Fed indipendente senza però affrontare direttamente la questione dei tassi di interesse intanto la Banca Mondiale ha tagliato le stime sulla crescita mondiale nel 2023 a più 1,7% dal 3% previsto a giugno a causa della persistente inflazione dell'aumento dei tassi di interesse e degli effetti della guerra in Ucraina per l'eurozona è ora attesa una crescita 0 sul Forex il cambio euro-dollaro diaggia 1,073 e il dollaro yen risalito a 132,2 il rialzo delle quotazioni del greggio con il Brent è più 0,5% 80 dollari e il VTI è più 0,7% 75 dollari sull'obbligazionario lo sprende BTP Bund arretra 190 punti base con il rendimento del decennale italiano al 4,21% tornando a Piazza Affari Bene e Poste Italiane più 1,2% Intesa San Paolo più 1% Generali e Iveco più 0,9% mentre le vendite hanno colpito in particolare Moncler meno 1,5% Campari e Prismian meno 1,3% Ferrari meno 1,2% ed Enel meno 1,1% Grazie buon proseguimento di serata Grazie